Questa meravigliosa cucciola in crocio pastore tedesco si chiama Cosetta. Cosetta è nata in canile con otto fratellini, nove in tutto. È nata in canile perché la mamma è arrivata qui anziana e malata, non immaginavamo potesse accoppiarsi, non abbiamo fatto in tempo a sterilizzarla ed è rimasta incinta. Ce ne siamo accorti tardissimo perché per il suo stato di salute non si vedeva nemmeno la pancia. Quindi a un certo momento questa cagnetta ha partorito e ne ha fatti nove. Due inizialmente sono morti e sette sono sopravvissuti, tra cui questa meraviglia di cucciola, Cosetta. La mamma è un pastore tedesco, non puro però molto pastore tedesco. Il papà è una specie di spinone, un meticcio con il pello ruvido, marrone e bianco, molto molto dolce e affettuoso. Anche la mamma era dolcissima. Cosetta ha teso insieme ai fratellini l'età di tre mesi per essere proposta in adozione perché non è stata bene. Tutti i cuccioli erano un po' debolucci per aver perso prematuramente la mamma. Infatti la mamma, come spiegavo inizialmente, è arrivata molto malata e non è sopravvissuta. Poco dopo il parto è morta. Quindi i piccoli hanno dovuto fare terapie antibiotiche, una serie di cure, sono stati sverminati ripetutamente. Insomma, non era proprio possibile proporli, temevamo di perderli. Invece tutti e sette siamo riusciti a salvarli e adesso sono diventati degli splendori. Cosetta stupenda. Tutti gli altri, guardateli. Cuccioli meravigliosi, cuccioli in salute, nutriti, bellissimi. Troviamo una famiglia per questa meraviglia di cucciola e per i fratellini. Guardate, Cosetta è affettuosissima, stupenda. Diventa naturalmente di taglia medio-grande, come la mamma, come il papà. Lei assomiglia tantissimo alla mamma, quindi da grande sicuramente avrà le orecchie dritte come un pastore tedesco. Ciao Cosetta, ciao piccino, buona fortuna. Ciao!